messaggio una bottle è una realtà nata dall'unione tra cade il griffone nota azienda produttrice di vini pregiati in terra d'asti e un innovativo team di designer unendo il 100 per cento della qualità al 100 per cento della creatività il nostro obiettivo trasformare una bottiglia di ottimo vino in un veicolo per comunicare in che modo inserendo il messaggio direttamente sulla bottiglia con una personalizzazione assoluta dell'etichetta facendola diventare un vero e proprio vestito su misura cambiando forma colore testo in infinite soluzioni e da oggi grazie alla collaborazione tra appela e messaggio una bottle puoi usufruire di questo servizio per primo aderendo diversi livelli del progetto avrai un servizio innovativo ed esclusivo ad altissimo valore aggiunto per realizzare le tue etichette con il supporto di tutto il nostro team per ogni esigenza occasione evento quindi feste compleanni open day inaugurazione convegni natale regali grigliate matrimoni anniversari team building sport e business chi lavora a questo progetto fabio daniela martina pierpaolo ora hai capito l'unico limite è la tua fantasia ciao 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 ciao